C'è il rischio che Manduria possa perdere l'autonomia dirigenziale dell'Istituto Tecnico Einaudi, una scuola storica che in oltre 50 anni ha formato tantissimi studenti diventando punto di riferimento dell'intero comprensorio a cavallo tra le province di Taranto e Brindisi. Per il MIUR la scuola è sottodimensionata, ovvero non avrebbe raggiunto un numero minimo di iscrizioni fissato a 600 alunni. In realtà si tratta di un mero errore, in quanto non sono state considerate le iscrizioni dei corsi serali, un errore che rischia di penalizzare ulteriormente già questa martoriata città. Dal nostro punto di vista, dal punto di vista della scuola, trattasi di un errore da parte del Ministero nel decretare il sottodimensionamento di questa scuola che di fatto a tutt'oggi ha di contro i numeri per poter essere considerata normodimensionata. Questo perché, come abbiamo già detto in altre occasioni, le iscrizioni ai corsi del serale dovrebbero essere considerate a tutti gli effetti come iscrizioni che rientrano nell'organico di diritto della scuola e che quindi fanno, tra virgolette, numero per considerarla come normodimensionata. Cosa comporterebbe un sottodimensionamento? È importante ricordare che questa realtà, la realtà dell'Istituto Enaudi, è una realtà di per sé molto complessa. In quanto ci sono tre indirizzi distinti, c'è un'azienda agraria. Questa scuola è frequentata da un'utenza, in molti casi, in molti contesti, fragile e vulnerabile, che trova nella scuola un unico punto di riferimento. Questa scuola stessa è un innegabile presidio di legalità sul territorio. Il sottodimensionamento implicherebbe una sorta di declassamento, anche in un certo qual modo di decremento di quelle che potrebbero essere le potenzialità di questa scuola nel dare risposte sempre più concrete e sempre più significative ad un territorio che, come le diceva, è martoriato. Perché è martoriato? Per anni il comune è stato commissariato per mafia. L'anno scorso ci sono stati eventi di cronaca assolutamente negativi che hanno fatto conoscere, per certi aspetti, gli aspetti peggiori di una città che invece avrebbe molto da dare, molto da esprimere, se sostenuta da un'amministrazione, diciamo, anche più efficiente. A nulla sono valse le richieste di rettifica. La dirigente avrebbe già la destinazione in altra scuola, ma non solo il corpo docente, anche le associazioni e la città in generale. Sono pronti a garantire sostegno attraverso una manifestazione. Venerdì 31 luglio alle ore 19 in piazza Garibaldi ci sarà anche una raccolta firme ed è stato proposto anche un ricorso al TAR per evitare che il lavoro sin cui fatto possa essere vanificato. Si sta lavorando anche per incrementare la qualità che già questo istituto ha offerto al territorio essendo punto di riferimento per tutta la zona? Io sono arrivata in questa scuola il primo settembre perché sono una neodirigente, ne ho messo il ruolo e mi sono immediatamente posta il problema che un qualunque dirigente si pone e cioè quello di capire le criticità di una scuola e di puntare al miglioramento. Io direi che nonostante si sia vissuta in pieno l'emergenza del Covid, questa scuola ha dato delle ottime risposte perché come didattica a distanza si è immediatamente organizzata e siamo partiti subito con le piattaforme digitali, con il comodato d'uso, con tutti quegli accorgimenti, tutte quelle procedure che hanno consentito all'utenza di andare avanti. In uno degli ultimi collegi dei docenti comunque si è già messo in moto un meccanismo per creare una nuova progettualità per l'anno prossimo e infatti il primo risultato è la prima classe digitale che partirà dal 24 di settembre, che è il giorno in cui questa scuola riaprirà i battenti per tutti i suoi studenti e per accoglierli in presenza, senza parlare di tutti gli interventi strutturali di pitturazione, di aggiustamento e di manutenzione delle aree verdi, della sede di via Borsellino, tutti gli interventi di manutenzione che io ho appaltato in questi giorni per far sì che la sede anche dal punto di vista strutturale sia quanto più accogliente possibile. L'appello rivolto a tutta la città, non solo a, tra virgolette, gli addetti ai lavori? Beh, l'appello che io faccio, sento di dover fare alla città è questo, innanzitutto di informarsi, di sapere perché è compito di ogni cittadino sapere ciò che avviene nel proprio territorio e l'appello che io faccio alla città è di supportare comunque la causa di questa scuola. Questa scuola non sta chiedendo altro se non di lavorare in piena autonomia per migliorare i propri servizi. Per questo motivo per il 31 di luglio è stata organizzata una manifestazione in realtà voluta dal territorio stesso in quanto ci sono tante associazioni del territorio che hanno espresso innanzitutto la loro solidarietà e che ci hanno praticamente fatto capire che sono al nostro fianco in questa sorta di sfida non all'amministrazione ma è una sfida per difendere i principi di una scuola pubblica, libera, indipendente e responsabile. Grazie